Tra gli strumenti a disposizione di un collezionista emerge anche uno strumento di assoluto interesse. Si chiama Trust. Scopriamo di cosa si tratta. Il Trust è uno strumento giuridico utile per la protezione di un patrimonio artistico privato, ossia permette la possibilità di tutelare la propria collezione dando delle regole sulla propria gestione. Ma torniamo un attimo a Monte. La nascita di una collezione spesso nasce dalla forte passione del primo collezionista, passando così nel tempo da essere un hobby a un vero e proprio asset. Un asset dal grande valore, oltre che emozionale e affettivo, anche di valore economico. E se il primo collezionista era un grande appassionato, comprava consenno, gestiva con altrettanta attenzione e cura, non è detto che l'erede, il figlio, il nipote o il pronipote, possa avere medesima passione. E di conseguenza, quello che è diventato nel tempo anche un asset economico, deve essere tutelato e deve essere fatto da persone competenti che possano in qualche modo garantire uno scopo, sia esso economico, sia di tutela della collezione stessa. Per fare questo bisogna porsi delle regole e trovare quindi uno scopo alla collezione e uno strumento legalmente riconosciuto che possa perseguire quell'obiettivo di conservazione, valorizzazione o di messa a reddito della collezione. Ma per capire se il trust può essere uno strumento utile per la propria collezione, bisogna allora porsi alcune domande. La collezione potrà essere divisa o bisogna tutelarne l'integrità. La fruizione della collezione deve essere privata oppure l'obiettivo è renderla pubblica. Si vuole prevedere la donazione? Se sì, presso quale istituzione? La raccolta d'arte deve essere implementata nel tempo e secondo quali regole da parte del collezionista. La collezione è strutturata e valorizzata nella catalogazione e nella documentazione a corredo delle opere. E ancora, la collezione, a chi sarà rivolta? Chi saranno i beneficiari di questa collezione? Deve generare una rendita? Quanto costa gestirla annualmente? A chi andrà a fine di un determinato periodo? Queste sono solo alcune domande che si dovrebbe porre un ipotetico collezionista nel valutare di mettere a disposizione la sua collezione, capire se questi valori e queste regole possano in qualche modo tutelare l'intera collezione a favore di qualcuno. Ovviamente questo qualcuno potranno essere i posteri o un ente pubblico o privato in caso di sua dipartita. L'utilizzo del trust nasce dalla volontà da parte del collezionista o del proprietario delle opere di intraprendere un programma unitario di gestione della propria collezione. L'innovazione sta in questo, sta nel prevedere il futuro della propria collezione al di là di eventuali rischi derivati dai passaggi generazionali, ossia di tutelare la propria collezione nel tempo e di metterla a disposizione di un beneficiario, sia non essi gli eredi o un ente pubblico o privato, un museo o un'istituzione. Il proprietario, che da questo momento possiamo chiamare settlor o disponente, decide di porre la sua collezione a capo di un trust, ossia di un'istituzione giuridica. Fisicamente spoglia le sue opere, quindi lascia la proprietà delle opere, a favore di un trust, di un ente giuridico. Nomina un gestore, quindi un trustee, decide quali regole devono essere imposte nello statuto di creazione del trust, se la conservazione della collezione o ancora l'implementazione o ancora la crescita o semplicemente la gestione a favore di un beneficiario. Il beneficiario sarà colui che, a fronte del rispetto di alcune regole poste dal settlor, potrà godere e beneficiare del trust stesso. Cosa significa? Che il trust viene istituito trasferendo beni o diritti in capo ad un trustee, stabilendo delle regole e delle istruzioni precise per la gestione dei beni o dei diritti che fanno capo al trustee. Da quel momento la proprietà dei beni passa dal disponente, quindi dal settlor, dal vecchio collezionista, al trustee, il quale ha completo potere gestionale di quel patrimonio, ma solo e soltanto ai fini dello statuto disposto dal cedente. Ovviamente i beni sono separati dallo stato patrimoniale del trustee. Cosa significa? Che ne è responsabile, ma la proprietà è del trust e lui con un accordo fiduciario ne gestisce i beni o i diritti al fine del raggiungimento dello statuto e degli obiettivi prefissati dal predisponente. Per fare un esempio concreto, il disponente, ossia il settlor, colui che aveva la collezione, decide di spogliarsi della sua collezione, di creare un trust il cui obiettivo è dare una rendita ai suoi nipoti, il cui però obbligo da parte del gestore del trustee sarà quello di farne una conservazione, una valorizzazione e una rendita costante per i propri beneficiari. Cosa significa? Che il trustee dovrà andare a gestire quel bene nell'interesse e negli obbligi di quello statuto per far sì che gli eredi possano giovare appunto di un reddito. Per fare questo dovrà rispettare tutte quelle regole che ammonte un disponente a posto per lui, ossia la gestione, la conservazione, il prestito, l'acquisizione e la dismissione della collezione. Questo mette in sicurezza il fatto che la collezione stessa rimanga coeva e coesa nel tempo. Ossia gli eventuali eredi, siano essi figli, nipoti o pronipoti, potranno giovare dei benefici di questa collezione, gestita, si presuppone, da del personale competente o comunque incaricato e rimovibile da parte del settlor o comunque di un guardiano, quindi una parte terza che gestisce e controlla il trustee stesso, negli interessi della collezione stessa. In questo momento il patrimonio della collezione è fuori dall'orbita di proprietà del primo disponente. Di conseguenza viene messa in sicurezza dall'attacco di creditori o ancora dall'eventuale erosione delle tasse dei passaggi generazionari. In quanto seppure i passaggi generazionali continuino nel tempo, il trust viaggia su una linea indipendente e parallela, generando dei costi, ovviamente relativi alla gestione del trustee e di tutto quello che riguarda la normale conservazione, ma si presuppone, laddove questi siano stati previsti in sede di istituzione del trust per conto dei beneficiari, anche dei guadagni e quindi l'autogestione o l'autoimplementazione. O ancora il supporto da parte dei gestionari di fisse continuative per la conservazione della collezione stessa. Un altro obiettivo, invece, può essere quello della filantropia, della beneficenza, ossia del mettere a disposizione di un'istituzione pubblica o privata l'intera collezione. Dopo la morte o durante la vita del disponente, alcuni di questi decidono che la collezione, affinché essa rimanga tale, sia destinata a un museo, in cui però, anche qua, possono essere predisposte delle regole. Ti cediamo la collezione a patto che, nel corso di totti anni, tu esponga un quarto della collezione costantemente, ne sostenga le spese per la manutenzione, laddove questo non avvenga, avrò il diritto di recuperare le opere e di porle a disposizione di altri. Quindi questo conserva anche l'integrità della collezione nel tempo e ne tutela il suo corpus e la sua importanza. In Italia, uno degli ultimi ad aver creato un trust della propria collezione è stato il giovane Francesco Taurisano, che ha predisposto la sua raccolta, iniziata sin dal 1979 dal padre Paolo, in un futuro sotto forma di trust, per poterla salvaguardare e mantenere nell'ambito familiare, ma soprattutto valorizzarla, grazie ai prestiti, ai musei, istituzioni e gallerie in tutto il mondo. Dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo pensare anche a portare innovazione nei sistemi gestionali delle proprie collezioni e il trust si sta dimostrando un valido strumento per la valorizzazione, gestione e passaggio generazionale della propria collezione.